A larghissima maggioranza, con 24 voti favorevoli e 2 astenuti, Goracci, Comunista Umbro e Cirignoni, Gruppo Misto, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato il testo unico per il governo del territorio e materie collegate predisposto dalla Giunta regionale. Il documento, grazie al quale verranno abrogate 17 leggi regionali, è composto da 273 articoli rispetto agli oltre 600 precedenti e punta ad ottimizzare i procedimenti edilizi ed urbanistici, riducendo tempi e costi e favorendo l'applicazione di servizi telematici. Il relatore unico Gianfranco Chiacchieroni ha rimarcato come l'obiettivo della Regione è creare un buon equilibrio tra l'azione compiuta con la delegificazione e quella con la semplificazione, perseguendo l'assetto ottimale del territorio nel rispetto dei principi del contenimento del consumo di suolo, del riuso del patrimonio edilizio esistente e della rigenerazione urbana, valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali. Uno strumento importantissimo ha sottolineato nel corso della riunione la Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini, che rende trasparenti le norme e meno ambigua la loro interpretazione e che mira, ha detto, allo sviluppo del territorio, puntando sulla salvaguardia del paesaggio rurale, dei contesti urbani e dei centri storici, sulla riqualificazione urbana delle periferie e delle aree industriali.